Salve a tutti ragazzi bentornati sul mio canale oggi vi presento Iron Man della linea Avengers Infinity War cominciamo subito ad aprire 1 due e tre vediamo come si presenta devo dire anche questo è molto fedele al film molto ben fatto guardate i dettagli del resto è il mio preferito guardate la schiena non vedo nessun errore di painting le braccia come solo si muovono possiamo fare quello che vogliamo ciao ciao la testa anche puoi andare un po' in giù un po' in su e girare le gambe sono davanti praticamente perfetto ora vediamo cosa c'è in dotazione Iron Man questa è la sua arma davvero ben realizzata anche questa bellissimo fucile bellissimo fucile guardate ancora morbida gomma vediamo come va messo un po' in giù un po' in giù un po' in giù poi infine abbiamo la sua pietra in questo caso di colore verde da mettere qui sopra così non ho capito questo pezzo qua cosa serve si può mettere anche così davvero bellissimo per oggi è tutto grazie per la visione a presto ciao